12 list, 12 partiti a sostegno della candidatura di Amalia Bruni. A breve la presentazione, quali novità vedremo in queste liste? Io penso che ci saranno 8 liste a sostegno di Amalia Bruni, ci sono 12 partiti che stanno sostenendo la candidatura di Amalia, una coalizione molto larga, ma soprattutto ci tengo qui a fare un ultimo appello a tutti coloro i quali hanno una storia di sinistra, hanno la voglia di combattere, hanno la voglia di non far stare al governo calabrese il ticket Spirlio Chiuto, se hanno questa voglia devono sostenere tutti Amalia Bruni, perché il rischio che qualcuno possa in qualche modo essere determinante nel far vincere il centro-destra non sostenendo Amalia e secondo me c'è bisogno di un grande atto di generosità politica con la quale si capisce che per far cambiare questa terra e per far diventare in particolare la Calabria protagonista del Mezzogiorno e del Paese insieme con l'Europa devono sostenere Amalia Bruni. Si riferisce a De Magistris o ancora ci sono degli screzi interni al Partito Democratico? No, internamente ormai c'è una totale compattezza a sostegno di Amalia Bruni, mi riferisco a tutti coloro i quali non vogliono diventare il centro-avanti del centro-destra. Chi non sostiene Amalia Bruni rischia anche involontariamente di diventare il centro-avanti del centro-destra, come dire, di fare l'autogul. Oggi Amalia è un'eccellenza di questa terra, ha scelto di stare qui, fa ricerca qui, è un medico di grande valore sul piano internazionale, il fatto che la possiamo candidare al governo della Regione Calabria per curare i mali della Calabria, soprattutto nella sanità, penso che sia un risultato molto importante e dobbiamo lavorare in questa direzione tutti, soprattutto quelli che hanno una storia di sinistra importante e che sentono ancora di più questa esigenza. Io lancio l'ultimo appello, ovviamente, e spero che questo appello venga accolto a favore di Amalia. Il tema è il cambiamento e non far andare al governo della Regione Calabria, il ticket occhiuto spirlì. Qualche nome delle liste è inaspettato, insomma, nuovo? Innanzitutto posso dire che il Partito Democratico avrà sui tre capi lista sicuramente due donne e un uomo. L'uomo già lo conoscete, è quello di Reggio Calabria, è Nicola Irto, il nostro capolista a Reggio Calabria, le altre due saranno donne. Grazie a tutti.